Il Comitato per le Sagre Santo Spirito organizza con il patrocinio di provincia di Bari, comune di Bari, prima circoscrizione Santo Spirito Palese e l'Endas, i giovani in festa con la Sagra della Porchetta, lungomare Cristoforo Colombo, nei pressi di piazza Roma, Santo Spirito, Bari, sabato 25 giugno 2011 ore 21. Nel corso della serata degustazione di panini con la porchetta e birra alla spina, musica e animazione con il DJ dell'Altra Radio, Mirko Corradino, special guest from l'Altra Radio, Pino Giannini. L'evento rientra tra le manifestazioni programmate aspettando la sesta Sagra del Pesce Fritto, che avrà luogo a Santo Spirito il 30 e 31 luglio 1 agosto 2011, sempre sul lungomare Cristoforo Colombo, mercato del pesce.